Se volessimo descrivere in poche parole la nuova DS4 E-Tens, il claim più efficace sarebbe sportiva fuori, comoda dentro e confortevole su strada. Mai come in questo caso il marchio premium, nato da una costola Citroen, ha manifestato la sua viressenza, forme audaci e muscolose si fondono con un'anima ricca di comfort. Una sorta di moderno crossover coupé accogliente e curato negli interni, con un abitacolo che è come una suite a 5 stelle e morbida e ovattata nei viaggi. E qui entra in gioco la nuova unità plug-in hybrid, che combina un motore a 4 cilindri 1.6 turbo per 180 cavalli, con un sistema elettrico, per una potenza totale di 225 cavalli. La batteria da oltre 12 kilowatt si ricarica completamente in un paio d'ore, consentendo un'autonomia di guida a zero emissioni di 55 chilometri, che sono in media uno spostamento casalavoro quotidiano. Come tutte le ibride alla spina, dà il meglio, sia come efficacia del sistema che nei consumi, quando viene ricaricata tutti i giorni. Altrimenti la DS4i Tense funziona come un'ibrida tradizionale, con rigenerazione della batteria durante la frenata e nei rilasci del gas. Dalla nostra abbiamo anche la possibilità di selezionare quattro programmi di guida, Hybrid, Electric, Comfort e Sport, per assecondare ogni esigenza con le caratteristiche del percorso. Il passaggio tra Comfort e Sport è ben avvertibile, con le sospensioni che si irrigidiscono e con la DS4i Tense, che diventa più piatta e precisa nell'inserimento in curva. La DS4i Tense offre anche una serie di funzionalità di sicurezza, come l'avviso di stanchezza, il controllo anti-arretramento in salita e la frenata automatica d'emergenza. Nei lunghi viaggi o nei tratti più sconnessi, possiamo contare sul cambio automatico ad otto rapporti, molto fluido e dolce, e sul sistema elettronico delle sospensioni, che isola efficacemente e rende la guida confortevole come su un tappeto ad aria. In modalità totalmente elettrica, diventa una compagna di viaggio silenziosa e fulminia nello scatto, con una velocità massima raggiungibile che sfiora i 130 km orari prima che il sistema si ripristini in modalità ibrida. Grazie alla funzione eSave, DS4i Tense consente anche la massima flessibilità di utilizzo del propulsore elettrico, potendo conservare un certo quantitativo di energia elettrica, utile ad esempio per chi abita nel centro cittadino ed ha bisogno di un po' di carica residua per entrare nelle zone ZTL. Se fuori esprime sportività, dentro è un connubio tra modernità e lusso artigianale. Il cruscotto digitale con schermo da 7 pollici è affiancato al sistema multimediale touchscreen con schermo da oltre 10 pollici al centro della plancia. Non mancano anche un altro display da 5 nella console facilmente raggiungibile quando si è impegnati nella guida e il comodo Head-Up Display che proietta nel parabrizza le indicazioni alla guida più importanti. Sportiva fuori, comoda su strada e lussuosa dentro, DS4i Tense ha nel sistema plug-in hybrid quella alleato in più che, se usata a dovere, può fare la differenza.